Non essere il migliore, sii unico Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro Potenzia la tua libertà e strigiona tutta la tua energia Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale Per liberare la tua mente ogni giorno di più Per liberare la tua mente ogni giorno di più A cura di Matteo Neroni Eccoci qui, benvenuti a tutti su Liberamente Live Lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente E nello spazio di oggi, insieme con voi, cercheremo di fare un viaggio Spero, anzi sono sicuro, affascinante Su uno dei temi più attuali in assoluto E che resteranno attuali probabilmente nel corso anche dei prossimi anni Quello legato all'interazione che c'è e che esiste Tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale Quindi cercheremo di capire un po' Quella che è la relazione che sta avvenendo Si sta già definendo in maniera Diciamo chiara e anche nello stesso tempo caotica E quindi spero che questa chiacchierata ci aiuti anche a fare un po' di chiarezza Perché viviamo di fatto in un'epoca di trasformazione molto importante Una trasformazione tecnologica, digitale Dove l'intelligenza artificiale stanno rapidamente In qualche maniera trasformando il nostro modo di vivere nel mondo La relazione con noi stessi, la relazione con gli altri Ed è sempre quindi più importante esplorare Come in qualche maniera questo avanzamento dell'intelligenza artificiale Continuerà ad influenzare il nostro comportamento Le nostre emozioni E il nostro anche modo di comprendere la mente umana Quindi oggi ci addentriamo in questo dibattito Cercando di capire come l'intelligenza artificiale Può aiutarci a comprendere meglio l'essenza dell'essere umano O addirittura pericolosamente destrutturarla ulteriormente Lo facciamo sempre insieme di un esperto e di un ospite E io oggi sono veramente molto molto contento Di poterlo fare insieme a Raffaele Tovazzi Ciao Raffaele Ciao Matteo Ciao Un piacere di essere tuo ospite Tra l'altro un filosofo in un podcast che si chiama Liberamente Perfetto Finalmente coroniamo entrambi allora un sogno Facciamo così Anche perché Raffaele io di per sé adesso ti lascio presentare Di fatto alle persone Ma noi ci conosciamo ormai da diversi anni in realtà E durante questi anni ne è passata di acqua sotto i ponti E insomma il tema di oggi ce lo dimostrerà abbondantemente Raffaele prima di entrare un po' a gambatesa sul tema di oggi Per le persone che non ti conoscono Aiutoci un secondo a capire meglio chi sei Che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni Questa è la domanda che mi viene fatta più spesso Anche da mia madre E non credo di essere mai riuscito a rispondere in maniera esaustiva Ora forse ho bisogno di te Matteo per riuscire a trovare il linguaggio giusto Per esprimere qualcosa che avevo dentro vent'anni fa Quando hanno cominciato a chiamarmi filosofo esecutivo Ed evidentemente trova dentro di me ancora qualcosa da esprimere con questa nominalizzazione Io vengo definito filosofo esecutivo E non so se l'ho mai raccontato Non credo Tutto è nato da una presa in giro Perché devi sapere che la mia tesi di laurea si intitolava Executive philosophy Cioè filosofia esecutiva Perché aveva delle pretese molto alte Di costituire un ponte da un mondo estremamente teorico Che è quello dell'accademia E uno estremamente esecutivo Che era quello delle imprese Perché io a 19 anni avevo da un lato l'esigenza di mantenermi Quindi andare a lavorare Dall'altro una passione bruciante per la filosofia E ho sempre pensato che queste due strade Mai e poi mai sarebbero potute incontrare ad un dato punto Un po' come la scienza e la religione Come fai? Eppure stiamo arrivando a quel punto io E allora che cosa ho fatto? Ho cominciato a lavorare nel mondo delle imprese E mi sono iscritto a filosofia per coltivare questa mia passione Ad un certo punto io mi imbatto nelle neuroscienze Nella psicologia cognitiva Di cui tu sei grande esperto E soprattutto in quel filone di ricerche Che riporta alla filosofia del linguaggio Dal novecento ai giorni nostri E lì per la prima volta ho avuto un'intuizione Ma allora questo mondo fatto di teoria Può incidere nel mondo della pratica Perché vedevo che il mondo delle imprese Spesso mancava di nuove idee e di pensiero Ma il mondo delle accademie al tempo stesso Mancava di un po' di pragmatismo E allora dico guarda Scrivo una tesi di laurea intitolata Filosofia esecutiva Con un sottotitolo pensiero in azione In cui dimostro come alcune teorie filosofiche Possono creare valore nel mondo delle imprese Quindi filosofia esecutiva Mi metto nel mondo della formazione Della consulenza E all'inizio non avevo la pretesa Di presentarmi come filosofo Ma mi presentavo come Formatore, coach Mettite la nominalizzazione Che si centra di più Con quello che puoi immaginare Io facevo nel mondo delle imprese E ad un certo punto Conoscendo la mia tesi di laurea La gente ha cominciato a chiamarmi Ah, il filosofo esecutivo Ah, Tovazzi Che va nelle imprese E ti racconta di Platone Perché quello che facevo è Parliamo della società ideale Così come la vedeva Platone Ma se quella società ideale Che lui immaginava a livello politico Fosse una società Intesa come un SRL Un SPA Un SNC Quindi una società A livello commerciale Che cosa possiamo imparare Da Platone E questo è stato il mio La mia unique selling proposition Come la definiscono gli americani E quindi da qui il titolo Di filosofo esecutivo Non so se ha un senso Ma mi ha portato parecchio bene Sebbene Fun fact Anche questo Qua è una confessione Sono un terapeuta Non mi devo aprire Mi apro Tu pensa che Quando ho cominciato a utilizzare Consapevolmente Questa nominalizzazione Cioè filosofo esecutivo In un gruppo di marketer E di esperti O studenti di marketing Molto noto in Italia Di cui non farò il nome Si è aperto Un thread Un topic Intorno a quanto fosse sbagliato Il titolo di filosofo esecutivo E come mai e poi mai Quella cosa avrebbe potuto funzionare Bene Mi sa Che si sbagliavano Che si sbagliavano Guarda Raffaele Questa è una È un bellissima introduzione Perché spiega anche il motivo Per cui io Ci ho tenuto tanto Ad averti come ospite All'interno del podcast Liberamente Perché noi Prima di andare in onda Tu hai messo giù Le carte sul tavolo E hai detto Matteo io Non sono un esperto Di intelligenza artificiale Ma quello che A me interessa In realtà È proprio quello Che hai appena raccontato Nella tua storia Cioè sei una persona Che fin da Da tenera età Sostanzialmente Si è sporcato le mani Con il cercare Di integrare Qualcosa che apparentemente Non era integrabile Per nulla E quindi Questo è un po' Anche l'esperienza Che forse Molti di noi Stanno cominciando a vedere Questa difficoltà Ad integrare L'essere umano Con l'intelligenza artificiale Pur Comunque Essendo l'intelligenza artificiale Se vogliamo Un po' figlia dell'uomo Quindi Vorrei un pochino Insieme con te Capire Che relazione Si sta venendo a creare Perché ti dico In qualche modo In questo momento Attuale Nel 2023 Che stiamo vivendo C'è un pochino Da una parte Chi vede L'intelligenza artificiale Un po' come Lo sviluppo umano C'è chi la vede Come un progresso tecnologico C'è chi la vede Invece come L'inizio della fine No? Dell'umanità Così come l'abbiamo Sempre concepita Allora ti volevo chiedere Tu come la vedi? Io Credo Avesse ragione Goethe Quando scriveva Innovare Significa Ricordare Dobbiamo andare All'origine Della storiografia Che è diversa Dalla storia Quindi La storiografia È come Gli esseri umani Hanno raccontato La storia Quindi Abbiamo una storiografia Di circa 6.000 anni E capire Quali sono State Le intelligenze Artificiali Con cui Abbiamo avuto Che fare Nel corso Della storia E quindi Nella città occidentale Ma Mi viene a dire Globale Noi Comunque Pensiamo Ad un testo Che è quello sacro Che ha avuto Un impatto culturale Come nessun altro Testo Vale dire La sacra Bibbia E nella sacra Bibbia Ad un certo punto Si parla Di Dio O Delle divinità Perché un altro topic Molto interessante È quello degli alieni Adesso Va Parecchio di moda Visti questi documenti Desecretati Dai Dai governi Dai governi Di tutto il mondo Diceva che queste creature O questa creatura Ha creato L'essere umano Ha propria immagine E somiglianza Benissimo Allora Noi Siamo stati creati In grado Di creare L'intelligenza artificiale È una creazione Umana E di conseguenza Rappresenterà Una manifestazione Fenomenica Di tutte le luci E tutte le ombre Dell'essere umano Dobbiamo Aver paura Dell'intelligenza artificiale Sì Come dobbiamo Aver paura Dell'essere umano Delle nostre ombre Soprattutto Se In una cultura Che ancora Censura L'analisi La psicoterapia Come un tabù Non se ne parla ancora Così apertamente E quindi Soffocando Determinate ombre Queste ombre Comunque esistono E vengono a galla In maniera inaspettata Io credo L'intelligenza artificiale Sia Un microcosmo Di un macrocosmo Che è la psiche umana Al tempo stesso Conosciamo Solo parzialmente L'infinito potenziale Della nostra mente Tu mi insegni E di conseguenza Ci saranno Degli aspetti Incredibilmente Luminosi Che oggi Non abbiamo Neanche la fantasia Di immaginare Quindi la domanda è Qual è il mio approccio Il mio approccio È quello O meglio Il mio consiglio È quello Di evitare Catastrofismi In primo luogo Quindi evitiamo Catastrofismi Della serie Il mondo Finirà Diventeremo Schiavi Delle macchine Provocatoriamente Ti dico Forse lo siamo Già Con gli smartphone Schiavi Delle macchine E al tempo stesso Evitare Facili entusiasmi Perché i facili entusiasmi Portano a sottovalutare La portata Di quella che sarà Effettivamente Una rivoluzione Per l'essere umano Detto questo Il mio approccio È prudente E ho Una metodologia Che ho chiamato Metodologia Amish Quando si parla Di nuove tecnologie La vuoi scoprire? Assolutamente Benissimo Tu conosci gli Amish O hai sentito parlare Degli Amish Ho sentito parlare solo Vai però è meglio Lo introduciamo Micro comunità In America Che Rifiutano Il progresso Tecnologico Ciao Guglielmo Ciao A tutti gli ascoltatori Ciao Abbi Soprattutto Ciao È un piacere ritrovarti Dicevo Gli Amish Che cosa sono? Sono delle micro comunità Ma neanche tanto micro Che hanno una propria legge Un proprio statuto Sono trattati come delle minoranze Che in alcuni territori Negli Stati Uniti D'America Soprattutto il Midwest Decidono di fare Uno stato commerciale chiuso Quindi di formarci Una propria legge Schermata dal mondo esterno All'interno Di queste micro comunità Esistono delle leggi Delle ritualità Delle abitudini Che sono Il totalmente altro Rispetto al mondo In cui io, te E noi Viviamo In questo momento In particolare C'è il rifiuto Della tecnologia O meglio Un rifiuto parziale Della tecnologia Alcune cose sono Estremamente obsolete Ci appaiono Perlomeno obsolete E superate Io credo Qualcosa dagli Amish Noi invece Possiamo imparare Ad esempio Loro Rifiutano L'automobile E vanno in giro Col carro E col cavallo Tanta gente Giudica Perché ha un pregiudizio Su questi In pochi però Viste si interrogano Sul perché E loro dicono Beh È innegabile Che il cavallo Ha un range Di quanto 10 miglia 20 miglia Se fai un viaggio lungo Potenzialmente anche di più Ma nulla Che non ti permetta Di tornare a casa Entro il tramonto Loro dicono Se diamo spazio All'automobile Rischiamo di allontanarci Dai nostri cari E i giovani Finiranno Per allontanarsi Dai genitori Allontanarsi Dai nonni Non prendersi cura Degli anziani Carpe Inciampi Nelle mie impronte Cioè se noi avessimo vissuto Quello che hanno vissuto loro Non dico saremmo diventati Amish Però forse Riusciremo a capire meglio Alcune loro interpretazioni Vabbè l'ho fatta larga Per spiegare Ai nostri ascoltatori Chi sono gli Amish E come vivono Ebbene Non è mica vero Che loro Rifiutano In maniera categoria Categorica La tecnologia Gli Amish Non rifiutano la tecnologia Ma usano Un membro della comunità Per testare la tecnologia In particolare Che cosa fanno? Si è sentito parlare Perché è giunta a voce Di questo internet È una roba buona O è una roba cattiva? Non lo sappiamo Chiediamo a Matteo Di testare l'internet Quindi un membro Della comunità Amish Diventa il tester Di questa cosa nuova Che è giunta Del villaggio degli Amish Matteo testa internet Per un mese Noi membri della comunità Guardiamo Matteo E ci interroghiamo È più felice? È meno felice? È strano? Dice cose che vanno Contro la nostra morale? E poi dopo un mese Giudichiamo Se internet è una cosa buona Oppure no Interessante sta cosa Perché la potremo utilizzare Anche per gli smartphone È giusto dare o non dare Lo smartphone ai bambini? Ok Interroghiamoci su come cambiano i bambini A seguito dello smartphone Ci piace? Non ci piace? Interessante Mi piace che tutto questo serve Questa riflessione che fai Serve un pochino per avere Quello che ero sicuro Che sarebbe emerso Fin da subito Durante questa chiacchierata Un pensiero critico Nei confronti della tecnologia Piuttosto che una demonizzazione A priori E mi metto Dalla parte un po' Dell'avvocato del diavolo Raffaele Se mi concedi Il nero c'è intorno a me Quindi di fatto Io faccio l'angelo Il diavolo Esatto L'oscurità Mi si addice Quindi Almeno graficamente No perché Di per sé è vero Demonizzare la tecnologia Sicuramente Non è La soluzione Alle difficoltà Che stiamo incontrando Eppure Eppure Le statistiche Dell'OMS Insomma Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità E specialmente Quelle relative A benessere psicologico Dimostrano come La tecnologia E specialmente In alcune fasi evolutive Specialmente Nei confronti Di persone Che portano in sé Determinate fragilità Psicologiche Rappresentano Un pericolo Un pericolo reale Ecco Non un qualcosa Che può essere Ecco Esplorato Per il piacere Di esplorare Insomma Ma Ci In qualche maniera Ci allertano Sull'importanza Poi di regolamentarla E poi ci arriviamo Anche dopo Ma di fatto è questo Quello che ti volevo chiedere È questo Cioè che Di per sé L'uomo Non è Non è il più forte O il più veloce Delle creature Ma è il più intelligente Questo lo sappiamo Le macchine Oggi Sono già più intelligente Dell'uomo più intelligente Allora Secondo te Cosa stiamo creando Con l'intelligenza artificiale Ma sai Si sono posti Questo interrogativo Anche i ricchi e potenti Del mondo Che Nei giorni scorsi Stavano proprio qui A Londra A interrogarsi Sull'impatto Che l'intelligenza artificiale Avrebbe avuto Sullo sviluppo Antropologico Sociale Politico Mi permetti una stoccatina Io ho il lato scuro Dai Per un minuto Certo che Se i nostri Politici Mettono Giuliano Amato 85 anni Presidente Della commissione Algoritmi Allora siamo potuti E allora Ha ragione Galimberti Quando dice La politica Non fa mondo Io credo I governi Si siano dimostrati Profondamente Inadeguati Ad affrontare La questione Inadeguati Anche ad affrontare La questione Sotto il profilo Strettamente Antropologico E psicologico E soprattutto Dimostrano Come le teorie Anarchiche Che negli ultimi 50 anni Sono state Tacciate Come obsolete Superate Anacronistiche In realtà Tornano Profondo Fondamento Perché Anarchia Che cosa significa Anarchia Non significa Caos Anarchia Significa Assenza Di governo Le grandi Aziende Del tech Secondo te Sottostanno Alle regole Dei governi O sono forse Una sovrastruttura A livello Governativo Di fatto Sono strutture Anarchiche Che paga le tasse Un po' Dove gli pare Un po' Dove gli conviene Un po' Se gli pare Soprattutto E di sicuro Non sarà la politica Poter regolamentare Se è giusto E sbagliato E la misura Della tutela Dell'individuo Premesso Che ho grossi dubbi Che la politica E i politici Abbiano mai fatto L'interesse Degli individui Ma questa È la questione Non mi ricordo più La domanda Però da cui Ervan Patete Secondo te Cosa stiamo creando Stiamo creando Un mostro Perché è mostruosa La società In cui viviamo Se tu Butti un occhio Ai social Tu sai Conoscendomi da anni Che io Ho Un approccio Un po' Combattuto Ai social media Ogni tanto Gli do speranza Entro dentro Pubblico contenuti Però dopo un po' Mi devo staccare Ma non mi devo staccare Perché penso Che Instagram Sia il male O che non ci siano Persone meravigliose Tu ne sei la prova Produci un enorme Valore Ai tuoi ascoltatori E ai tuoi followers Non mi piace Come mi sento Quando sono così Esposto All'opinione Degli altri Perché Non mi sento Poi così tanto libero Uno Può dire Ma io ho Tutta la leadership Del mondo Io sono padrone Del mio vascello Che chiamo esistenza E non è mica vero Io mi considero Un introverso E delle volte Ho bisogno Della solitudine Per liberare La mia mente Ora In un ecosistema Governato Dall'algoritmo Io sento Da introverso Che la mia mente Perde un po' Il controllo E comincio A fare Dei pensieri Che non mi vedono Causa Ma effetto Di una volontà Altrui Questo È il grande rischio Che stiamo Correndo Diventare quella Zombie armi Che i poeti E letterati Più distopici Hanno descritto In cui La nostra esistenza Quotidiana A livello comportamentale È uno stimolo Ad un input Esterno Che muove Logiche di convenienza Questo Credo sia il grosso ritmo Non essere più padroni Della propria consapevolezza Parto da quello Che dicevi tu prima Cioè Ti cito Elon Musk Elon Musk Per chi non lo conoscesse Insomma Ma credo che Ormai sia difficile Non averlo mai sentito parlare Sostanzialmente È il proprietario Di SpaceX Quindi DX Quindi che è stato Poi la sostituzione Di Twitter Di Tesla E quindi insomma È una persona Che sta È una delle persone Che stanno al volante Forse Dell'intelligenza artificiale E che ne è stato Il promotore Sicuramente È uno delle persone Che ha investito Di più economicamente Sul suo sviluppo E lui dice appunto Si ritrova Al primo summit globale Dell'intelligenza artificiale Quello che citavi tu prima Nel Regno Unito Che è stato proprio adesso Mi sembra poi a novembre L'ho uscito testualmente Non so se saremo in grado Di controllare La potenza dell'IA Un'IA che In un certo senso Ha già Superato il test di Turing Un test Lo ricordiamo Un test di intelligenza artificiale Dove sostanzialmente Ad un essere umano Gli viene chiesto Di giudicare Se la persona con cui sta parlando È un essere umano O un computer Ecco Noi oggi esseri umani Già Abbiamo dimostrato Di far fatica A distinguere Tra l'essere umano Tra uno della nostra specie Da qualcosa Che non è della nostra specie In un certo senso Non abbiamo superato Già un limite Senza ritorno Raffaele Totale Totale E questo È tipico Della traccotanza umana Di pensare Di imprigionare Non solo le persone Ma anche la tecnologia Ignorando Che noi Quando generiamo Una intelligenza Artificiale La mettiamo anche in grado Di sviluppare Una propria volontà Autonoma E autosufficiente Non possiamo controllarla E ti dirò di più Lancio una provocazione Una stoccata Tu Non so se è arrivata in Italia Questa feature In Inghilterra Sì Ma sento che I miei amici italiani Non ce l'hanno Quindi probabilmente Vi arriverà Nelle prossime settimane Tu utilizzi Spotify Immagino di sì L'utilizzi Per ascoltare podcast Pubblicare podcast Per ascoltare musica Eccetera eccetera Bene Spotify Credo negli Stati Uniti E in UK Prima che in altri posti Ha generato un DJ Su intelligenza artificiale Un DJ Che conosce I tuoi gusti musicali E Spotify Da quando è uscito Conosce le tue abitudini Conosce dove ti trovi Nel mondo Conosci che cosa Ascolti In determinate circostanze Benissimo Primi giorni Di questo DJ Di intelligenza artificiale Non ci pigliava un tubo Ma perché? Perché il mio Spotify È un po' corrotto Utilizziamo lo stesso Spotify Sui dispositivi Amazon Echo Alexa Banalmente detto In 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 casa Di conseguenza Un po' corrotto Dai gusti musicali Di ciascuno Cioè mia moglie Che ascolta i fuffai Foo Fighters Francesco mio figlio grande Che ascolta gli Iron Maiden C'è Federico il piccolino Che ascolta i Clash No? Quindi ciascuno Ha un proprio gusto musicale E quindi delle volte Mi proponeva delle cose Foo Fighters Che a me Non piacciono particolarmente Bene Ci ha messo Ci ha messo un cinque giorni A capire che ero io Che utilizzavo DJI Vi posso dire che Il disc jockey Di intelligenza artificiale Di Spotify È in assoluto Il mio DJ preferito? Soprattutto Contestualizziamo anche qua Nel momento Della radiofonia italiana Un tempo i DJ Erano quelli Che ti raccontavano Il retroscena Degli album Il retroscena Di come sono nate Le band Come è stato Costruito quel brano E quindi era Un filosofo Della musica Uno storyteller Della musica Tu ascoltavi la radio Gente vecchia come me Per scoprire I nuovi singoli E per scoprire Quei retroscena Che nell'era Ante internet Mai poi mai Avresti potuto sapere Perché lui ha letto Quella rivista Negli Stati Uniti In cui bla 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 Bellissimo Negli ultimi anni Le radio Che cosa hanno fatto? Hanno assunto Le influencer Gli influencer Che stanno rendendo La radio italiana Generalizzo Non sono tutte così Molto superficiale Oggi la radio in Italia Sta diventando Un po' Troppo simile A quella degli Stati Uniti Dove anche lì Con rare eccezioni Il DJ Disannuncia un disco Dice una minchiata Il più leggero possibile Annuncia quello dopo E spesso sono le major Che determinano Quello che tu Anche lì c'è Un'intelligenza artificiale C'è un algoritmo Sono le major Che determinano La musica Che Matteo deve ascoltare Su quella radio Benissimo Perché ti dico Che il mio DJ di Spotify È meglio di qualsiasi altro DJ Uno Perché conosce I miei gusti Conosce che cosa Sono avvezzo ad ascoltare Quando mi trovo In quel luogo Quando c'è quel meteo A quell'ora del giorno E arriva a dire Novembre Novembre ci porta Al tema della pandemia Nel 2020 Ti ricordi? Chiusi in casa Non potevamo uscire Eccetera eccetera Tu a novembre Con quel clima Che c'era Tendevi ad ascoltare Molto Suksi and the Benchies Allora ti ripropongo Suksi and the Benchies Una canzone Cover Mi arriva questa Questa Canzone E dico Che bella E lui cos'è Che ha messo assieme Dove mi trovavo Il mese che era Il periodo storico Il clima che c'era E mi sta proponendo La roba che ascolto Quando mi trovo In condizioni analoge Per esempio L'altro giorno Pioveva qui a Londra E dico Mettimi su una canzone Lui dice Senti Quando piove A te piacciono gli suede Lo so E quindi Ecco Animal Nature Degli suede E me la sono ascoltata tutta E io ho avuto la percezione Lui sì che mi capisce Come nessun altro E per quello che ti stava dicendo Non mi sento di rigettarla In senso assoluto Ad oggi Se comparo Questo tipo di intelligenza artificiale Di spotify Ti dico che è meglio Della maggior parte I DJ Che spicherano in Italia Sai Raffaele Io sono Sono cresciuto Con Con due Con due frasi Diciamo mantra Che mi venivano ripetute Guarda Quando parlavo E raccontavo Da piccolino Che mi sarebbe piaciuto Fare il terapeuta Lo psicoterapeuta E sostanzialmente Mi dicevano Guarda Che lo psicoterapeuta È un lavoro Che non Non tramonterà mai È come i becchini Ce n'è sempre bisogno No? In qualche modo C'è sempre bisogno Ho due cose Che non smetteremo mai Di avere I problemi Ecco e vai Pure A proposito L'intelligenza artificiale Non so se hai visto Per chi ci sta ascoltando E non ci sta vedendo Sono appena apparsi Per colpa Dell'intelligenza artificiale Dei palloncini Dei palloncini Mentre io facevo Dei movimenti Con la mano Quando parli di becchini Partono i palloncini colorati Partono i palloncini Questo è Interessante Come Come l'intelligenza artificiale Approccio al tema Al tema della morte Però comunque E sostanzialmente Quindi Di per sé Mi è venuto Mi è venuto Questo Questo pensiero No? Cioè Prima o poi L'intelligenza artificiale Sarà in grado Di sostituire La figura Dello psicoterapeuta Perché Di per sé Come dicevi tu prima Grazie alle connessioni Che sa fare Perché l'intelligenza artificiale Si basa sulle connessioni Replica Cerca di replicare Quelle che sono E le connessioni neuronali Del nostro cervello umano E di fatto Quello che si sta cercando Sempre di più Di arrivare a fare È Creare una macchina Che sia in grado Addirittura Di provare empatia Di provare emozioni Che è una roba Totalmente distopica Non lo so Almeno Non so qual è il tuo punto di vista E di per sé Questo Sapere questo Non è che Sai Mi preoccupo per la disoccupazione Non è tanto questo Però Io Come Anche come professionista So quanto è fondamentale La relazione Quanto può essere terapeutica La relazione uomo-uomo E Insomma Prima o poi magari avremo Uno psicoterapeuta Basato sull'intelligenza artificiale Tu vivi la stessa cosa Come filosofo Cioè Come ti vivi Questa cosa Cioè Hai paura che In qualche modo Prima o poi Un'intelligenza artificiale Sostituisca I filosofi Credo A certi livelli Nel mio mestiere Già l'abbia fatto Perché Se parliamo Di interrogativo Morale Piccola distinzione Parlo di interrogativo Morale E non etico Perché l'etica Filosoficamente parlando E questo è il dibattito centrale Nella storia di filosofia del novecento L'etica È qualcosa di assoluto La morale è l'interpretazione Soggettiva Di quello assoluto Quindi Cos'è soggettivo? Soggettiva la morale Ciò che è giusto per me Ciò che è bene per me Non è detto lo sia per te La legge è soggettiva Ciò che è giusto in Inghilterra Non lo è in Italia Ad esempio L'estetica Per quanto siano dei parametri Considerati oggettivi È soggettiva Quindi non è bello ciò che è bello È bello ciò che piace Quindi Ci sono alcuni interrogativi Di tipo morale Proprio sul utilizzo Delle AI In cui il dibattito filosofico Si è spostato Dagli esseri umani Agli algoritmi Sono spaventato? No per niente E per due ragioni La prima è che sono Un ottimista patologico Cioè io credo La vita Vincerà sempre su tutto Io credo L'amore Vincerà sempre Su tutto Credo Contrariamente a quello Che scriveva Guglielmo Prima L'intelligenza artificiale Sia in grado Di generare emozioni Provarle Non lo so Generarle senz'altro Banalmente Se io adesso Accedo ad Instagram E vedo la foto Di un bombardamento O vedo la foto Di un bambino Trovato sotto le macerie E come Si ha il potere Di condizionare Le mie emozioni Ed è per questo Che la temo Anche Credo Anche Che questo Sviluppo Della tecnica Metterà L'essere umano E parlo di filosofi E parlo di terapeuti Di fronte Ad una grande sfida Vole a dire La sfida Della creatività Un po' meno tecnici Un po' più artisti Credo Nell'arco Dei prossimi anni Alcune mansioni Di natura Filosofica Terapeutica Ma non solo Verranno sostituite Dalle AI Si Ci vedo Dito questo Una grande opportunità Per gente come te Permettere l'arte Permettere la creatività Permettere quel tocco umano Anche in temi Ti presenta fisica Nella terapia Ne ultimi anni Sono Sono proliferate Le app Che ti permettono Di avere un contatto Con il terapeuta A distanza Grazie Accelerato Anche Al Al Covid Ecco Diciamo che Ci sarà una nuova Generazione di terapeuti Che dirà Benissimo Spegniamo lo schermo Ed incontriamoci Di persona Stringiamoci la mano Abbracciamoci Sì Io credo La vita L'amore E l'arte Avranno lo meglio Sullo sviluppo Tecnologico Domanda A freddo Ok Quale filosofo Del passato Secondo te Si scandalizzerebbe Di più Davanti All'avvento Dell'Ii Quindi dell'intelligenza Artificiale E quale sarebbe Secondo te Più in grado Di illuminarci Bellissima Questa domanda Non me la sono mai posta E sono esaltato All'idea Di risponderti Allora Premesso che ho studiato Tanti filosofi E tante filosofie Evito di cadere Nel nerdismo Cioè di tirarti fuori Il filosofo Cicoslovacco Morto Suicida Nel settecento Ok Andiamo nel mainstream Perché aiuta Anche i nostri ascoltatori A ritrovarsi Magari In qualche Assunto Accademico O assunto Liceale Allora Analizziamolo Uno per uno Io credo Il più Vai pensare Non voglio dare una risposta banale T'ho messo in crisi Questa Questa Lo sapevo Adoro L'ho pensata Stanotte E' stato Vero Si giura Mi trovo ci pensavo Dicevo Ma che domanda posso fare A metterlo in crisi La trovo fantastica Tra l'altro Crisi Deriva dal greco Crisis Che significa scelta Mi hai messo in crisi Perché hai messo di fronte A una scelta Allora Ti direi Che colui Che sarebbe Avverso Sarebbe il grandissimo Giordano Bruno Giordano Bruno Che si considerava Ha ragione Un mago E credo Nel dispotismo Con cui viene Con cui L'intelligenza artificiale Ha un impatto Sulle emozioni E sui pensieri Dell'essere umano Lui preferirebbe Essere bruciato Su rogo Che non A secondare Questo sviluppo Tecnologico Quindi Quello avverso Ti direi A Giordano Bruno Anche qua Però qualcuno Potrebbe dire E no C'era una disciplina Che un tempo Era magia L'intelligenza artificiale Attiene alla metafisica E quindi Al cloud Quindi potrebbe essere Anche favorevole No Giordano Bruno Sarebbe stato Un ospite Degno Più degno di me Di liberamente E averbe detto Non ci sto Voglio essere Padrone Della mia psiche Connettermi a qualcosa Di più alto Che non il mio tempo E quindi La centralità Dell'essere umano Come motore Di ogni cosa Nella sua capacità Di padronizzare Il linguaggio Quindi quello avversario Ce l'abbiamo L'ivan drago Ce l'abbiamo Quello invece Che sarebbe Possibilista Ti dico Socrate Sai perché? Perché Socrate Direbbe Innanzitutto Non lo giudicherebbe A priori Come Negativo Ma ragionerebbe Anche se Secondo me Il Socrate Che ci ha presentato Platone È un gran paraculo Cioè io ero sempre Trovato un po' Un manipolatore Quando lui dialoga E dice Faccio emergere Da te Come una Una Come si dice In italiano Aiutami Quella che fa partorire Bambini Ostetrica Ostetrica Bravissima Un ostetrica Esatto Come un ostetrica Di anime La tua verità dentro Non lo so Diciamo che Socrate Aveva già Una sua idea E secondo me Col suo intuito Pilotava Probabilmente Ci permetterebbe Di capire Qual è la nostra Immagine E vedrebbe Nell'intelligenza Artificiale Quello specchio Disabitato Di umano Con cui l'essere umano Attraverso un set Di domande E risposte Potrebbe capire Davvero il proprio pensiero E mettere un'azione Nel proprio quotidiano Quindi Sfavorevole Giordano Bruno Sfavorevole Socrate Eccoci qui ragazzi Anche oggi Siamo arrivati Al termine Di questo bellissimo Episodio del podcast Liberamente Un episodio Dedicato Alle interviste Quindi Quella che è appena Ascoltato In maniera Totalmente gratuita È un estratto Bello corposo Dell'intervista Che ho realizzato All'interno Del canale telegram Segreto privato Delle menti libere Quindi Se puoi accedere A questa intervista Così come A tante altre Interviste Che realizzo Ogni settimana Di venerdì Non devi fare altro Che gratuitamente Iscriverti Al canale telegram Delle menti libere Scrivendo il messaggio Sono una mente libera Al mio contatto personale Su telegram Hai capito bene Cerchi Matteo Neroni Mi invia questo messaggio E da quel momento in poi Anche tu potrai entrare All'interno Del canale telegram Segreto privato Delle menti libere Ma c'è anche di più Perché coloro Che poi Decidono Di accedere Alla pagina Patreon Del podcast Liberamente Diventano Anche finanziatori E sostenitori Di questo podcast Potendo In qualche modo Usufruire Di tutti quelli Che sono i contenuti Plus Di questo podcast Tanto è vero Che ogni intervista Che viene registrata All'interno del canale telegram È Diciamo Gratuita Per tutto quanto Il mese solare All'interno del quale È stata registrata Poi passa A quello che è L'archivio Delle interviste E soltanto I finanziatori Di questo podcast Possono godere Di tutto questo Archivio Che ormai Conta veramente Più di Cento ore Di psicologia A crescita personale Se vengono sommate Tutte le interviste Che ho realizzato Con tanti ospiti Ed esperti Veramente D'eccezione Come quello Che hai ascoltato Anche durante L'episodio di oggi Quindi se Anche tu vuoi Approfondire Questi argomenti Che trattiamo Qui all'interno Del podcast Liberamente Insieme con me Non devi far altro Che diventare Anche tu Un sostenitore Del podcast A questo punto Magari ti starai chiedendo Ma quanto costa Diventare Sostenitore Quanti denari Ti devo dare Matteo Per poter Continuare A immergermi In tutta questa Psicologia In tutta questa Crescita personale Che tanto mi aiuta Nella mia vita Di tutti i giorni Vai sulla pagina Patreon Trovi il link All'interno Di ogni descrizione Del podcast Ma posso dirti Che già solo Con 5 euro Al mese Ti porti Praticamente A casa Tutto l'archivio Delle interviste Da qui A quando abbiamo Aperto Diciamo i microfoni Di questo podcast E con addirittura Un abbonamento Di 10 euro Al mese Ragazzi Rendiamoci conto Di cosa si tratta Neanche veramente Mezza tazzina Di caffè Al giorno Veramente Che offrite A questo podcast Potrete diventare Anche voi Redattori Addirittura Del podcast Infatti esiste Una redazione Del pod Del podcast Liberamente Dove ogni redattore Può scegliere Addirittura Quali argomenti Approfondire Nel podcast Del lunedì Dei miei monologhi Quindi fate domande E ricevete risposte Attraverso un podcast E addirittura Potete indicarmi Quelli che sono Gli esperti Da intervistare Ma soprattutto Incontrarli All'interno Del privé Che è Il post intervista Che insieme A tutti i redattori Del pod Diciamo Diventa Il fiore L'occhiello Di un podcast Di psicologia E crescere personale Unico Nel suo genere Perciò Io ti aspetto Come finanziatore E intanto Ti do appuntamento Al prossimo episodio Sempre qui con me Su Liberamente Non essere il migliore Non essere il migliore Sì unico Credi in te Impara ad amarti E datti il potere di cambiare Accetta il tuo passato Vivi il tuo presente E costruisci il tuo futuro Potenzia la tua libertà Potenzia la tua libertà E sprigiona Tutta la tua energia Tutta la tua energia Perché la tua vita migliora Perché la tua vita migliora Quando sei tu a migliorare Questo è Liberamente Il podcast di psicologia E crescita personale Per liberare la tua mente Ogni giorno di più Liberare la tua mente Ogni giorno di più A cura di Matteo Neroni